Stefano Faedo, una partita di sostanza, grande corsa, alla fine sei stato premiato anche con un gol. Il mister mi ha chiesto questo, mi ha detto di mettermi a disposizione della squadra, penso di averlo fatto, di aver dato una mano ai compagni, poi fortunatamente ho anche trovato il gol, quindi oltre alla soddisfazione per la vittoria anche per il gol personale, fa piacere. Hai un'ottima intesa anche con Zambon, come ti trovi con lui? Mi sono trovato sia benissimo sia sul campo che come ragazzo, perché un ragazzo alla mano, simpatico, sul campo ci cerchiamo spesso, siamo due giocatori abbastanza tecnici, quindi ci piace giocare insieme. Grazie Stefano. Prego, grazie a te. Dalla prossima partita avrete anche a disposizione Agustin Battipiedi, cosa ne pensi di questo giocatore? Sì, è un giocatore importante che la società ha voluto fortemente, perché conosce bene le caratteristiche del ragazzo, sia umane che tecniche, è un arrivo importante, arriverà credo lì o sabato e vediamo in che condizioni arriva. Finalmente ho fatto la ragazza, si mette a disposizione di un gruppo già valido e sarà un valore aggiunto.